Una musica per volare è il titolo della serata andata in scena venerdì 5 gennaio nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria della Pieve ad Arezzo. Il concerto, organizzato dai club Rotary di Arezzo, Arezzo Est, Casentino, Montaperti, Castelnuovo Berardenga, Cortona Valdichiana, Valdarno e Sansepolcro Piero della Francesca, ha visto esibirsi sul palco tre musicisti internazionali del calibro di Roberto Fabriciani, Gianna Fratta e Giovanni Roselli. L'evento è stato ideato per raccogliere fondi a favore dei progetti del Dopo di Noi messi in atto dalla fondazione Riconoscersi, Ollus, che si occupa di ragazze e ragazzi diversamente abili. L'associazione combatte l'indifferenza e l'abbandono delle persone affette da patologie psichiatriche e fisiche invalidanti, soprattutto quando c'è assenza di una famiglia di riferimento. Il richiamo della solidarietà non è rimasto inascoltato e la serata è stata un successo. L'associazione combatte l'indifferenza e l'indifferenza.